Lo scontro sulla movida all'Aquila al Zetonia e lo fa perché dei residenti hanno di fatto portato il comune in tribunale a causa dei disturbi provocati dalla musica alta di un locale. Eppure la prima causa civile sulla movida molesta in città, una famiglia da quattro persone ha chiesto un maxirisarcimento di 300.000 euro e il comune si costituisce in giudizio per difendersi. I due cittadini sono rappresentati dall'avvocato Fausto Corti che individua il comune come responsabile del mancato rispetto della normativa. Richiesta di risarcimento che va quindi sia sul comune che sui proprietari del locale. Il legale cercherà di dimostrare come i residenti abbiano avuto danni, mancanza di sonno, medicinali per poter dormire, anche danni psicologici, proprio a causa dei rumori della movida. E' una situazione che potrebbe avere diversi strascichi dal momento che molti altri residenti già sono intervenuti con diffide che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Il comune ha l'obbligo di garantire la quieta e il riposo dei cittadini. È un obbligo che gli deriva dalla legge e dal regolamento comunale di Polizia Urbana. Per cui se si produce rumore sulle strade pubbliche che supera i livelli di normale tollerabilità, il comune ne risponde. Questa è una giurisprudenza del Tribunale di Torino che è stata ormai consacrata dalla Corte di Cassazione. Ecco, c'è anche un aspetto. C'erano state tante diffide in realtà. Questa è la prima vera causa. Le diffide potrebbero trasformarsi in qualcosa di più e far diventare il fenomeno ancora più consistente? Beh, questa è la prima. Noi abbiamo già a suo tempo inviato al comune, come associazione per il centro storico, una 60-70 richieste di risarcimento di danno per un totale complessivo che superava i 3 milioni di euro. Adesso poi saranno i singoli proprietari a decidere se e come procedere. Dipenderà anche da quello che sarà l'evolversi della situazione, se effettivamente il comune prenderà o meno misure serie di contenimento del rumore e garantirà agli abitati del centro storico il diritto al riposo e al sonno. Inoltre, viene fuori che non si tratterebbe di un singolo episodio, ma di atteggiamenti reiterati con musica ad alto volume, amplificazione a palla, come si dice, e concerti abusivi nei vicoli. Grazie.